Le portano via la mercanzia varia che portava nel carretto lungo la spiaggia libera tra Torrette e Ponte Sasso ed accusa un malore, reale o presunto. Saranno poi gli accertamenti medici a notificarlo sotto gli occhi delle agenti indivisa, della polizia locale e degli uomini della Capitaneria di Porto che hanno eseguito nella giornata odierna un'operazione congiunta e programmata, con diversi sequestri di merce di varia tipologia ed elevato almeno sei verbali. La donna, probabilmente extracomunitaria, che presidiava il carretto stracolmo di mercanzia sulla cui provenienza non si ha alcuna certezza, è stata in un primo momento soccorsa anche dai bagnini, dei bagni Alda che le hanno somministrato un po' di acqua e zucchero, pensando ad un mancamento per il forte caldo e messa al riparo dal sole in una zona ombreggiata. Ma la donna ha continuato ad accusare a più riprese svenimenti e uno stato di palese agitazione, onde evitare ogni possibile conseguenza fisica, gli agenti della polizia locale che hanno sempre monitorato la donna hanno avvertito il 118 di Marotta che la soccorsa e trasportata a Santa Croce per gli accertamenti del caso. La spiaggia tra Torrette e Ponte Sasso, proprio a ridosso del rio Crinaccio, è già stata luogo di simili operazioni che hanno portato a numerosi sequestri di costumi da bagno, magliette, vestiti, cappelli, borse e cinture, oltre che a una numerosa varietà di oggetti di bigiotteria. Secondo però le recenti disposizioni di legge per contrastare l'abusivismo del commercio illecito e oltre che a controllare che la mercanzia non sia né contraffatta e che risponda ai canoni ed abbia le dovute certificazioni sulla salubrità dei materiali con cui è confezionata. Polizia locale e Capitanella di Porto fanno sapere che per tutto il periodo estivo daranno seguito ancora a simili servizi congiunti su tutto il litorale di competenza.